Ciao a tutti i casi con Gluci e Mille che parla e stiamo facendo un video di scartalacarta scartalacarta, scartalacarta, mille accenditi, facci sognare, mi dici, ci hanno regalato delle cuffie allora, vi faccio vedere la mia emozione, tutto quanto stava qua dentro e io facevo che cosa ci sarà qua dentro, che cosa ci sarà, che cosa ci sarà, ho aperto, ho detto un giocattolo oh ragazzi, ma vogliamo mettere che tu apri la posta e dentro la posta ti fanno i regali ti regalano quello che tu vorresti comprare, solamente che ti dicono basta che ci fai il video e noi te lo regaliamo ma volentieri ragazzi, questa ditta di ebay mi ha detto facci la recensione per piacere di un paio di cuffie bluetooth proprio quello che mi serviva, un paio di cuffie bluetooth, questa è la scatola con l'unboxing, ok, qui dentro vediamo se c'era anche una dotazione di cavi, sta buono, sta buono, sta buono, calmati, calmati allora, guarda qua, fai vedere il cavo, avvicinati alla telecamera e fai vedere così, come i cartelloni quelli là del Rocky Balboa, ragazzi, cavi, cavetti, a meno di 30 euro, me ne sono arrivati a casa io mi ero abituato, dico a sti prezzi, perché costerà a meno di 30 euro, dico sicuramente è una ditta cinese, ma non che, perché ormai tutto fanno in città pure l'iPhone, però dico magari mi ci vorranno tre mesi, ma che ieri mi hanno detto che me lo mandavano, oggi consegnato a casa, il cavo per ricaricare come cellulare e le cuffie per collegarle eventualmente col cavo, ma non c'è bisogno, perché sono cuffie Bluetooth, Bluetooth, ho detto YouTube allora, eccolo qua, guarda, fai vedere come si apre, guarda, ingombrano poco, metti in testa allora, vi dico cosa ho fatto, stavo con l'iPad, a un certo punto con l'iPad io ho preso e ho fatto attiva Bluetooth, mi ha riconosciuto subito queste cuffie, che avevo premuto il pulsantino on off, fai vedere tutta la zona pulsantiera, facciamo vedere, allora qui c'è tutta la zona pulsantiera, c'è un pulsantino on off, c'è un pulsantino più o meno per il volume e c'è un pulsantino per passare le canzoni successive o ai video successivi, questo qua sotto, nel caso stai ascoltando musica, eccolo qua, questo qua, per passare la canzone successiva se stai ascoltando una playlist di musica, e niente, miracolosamente le cuffie hanno cominciato a funzionare, adesso Alessandro te metto un video, ecco, YouTube, metti delle cuffie le orecchie e dimmi se senti qualcosa, se senti qualcosa, no, e per forza qui non ci arriva il wifi fino a qui, è lento, è lento a parte YouTube, aspetta, è YouTube che è lento, è YouTube che è lento, 1, 2, 3, prova, prova, mi senti, no ragazzi sta girando YouTube a vuoto, e chi è che, non ci arriva fino a qui YouTube, oggi è la giornata, dove manda pure in diretta, le sa, e oggi è una giornataccia per internet, mi sa che ci tocca appoggiarci su Vodafone, niente, ce sta pensando un attimo, eh?